Buonasera, salutiamo tutti quanti in allegria, il Signor facevi via come noi desideria. Il Signor facevi via come noi desideria, se vi piace canteremo di Gesù l'epipania, ed ognuno al tento stia che il principio noi darei. E la vostra borsa qualche offerta noi darà, se ci date quarant'ova e un pochino di farina, se ci date una gallina non ci fate un dispiace. Se ci date una gallina non ci fate un dispiace.